RH positivo, di nuovo con voi, un altro martedì insieme, un'ora dalle 18 alle 19, dove parleremo in positivo. Cominciamo a dire subito Michela che in positivo c'è il nuovo governo che si sta per fare, speriamo in Matteo Renzi tutti, facciamo il tifo per lui, perché è l'ultima speranza. Ma al di là di questo oggi vorrei parlarvi di un'altra iniziativa, un'iniziativa molto interessante, molto intelligente e molto utile. Una collaborazione tra gli oncologi, cioè quelli che si occupano dei tumori, e noi dentisti. E proprio per parlare di questa splendida iniziativa abbiamo in studio due miei colleghi che adesso la gentile e bellissima Michela presenterà. Grazie, buonasera, buongiorno a tutti. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottore evangelista Giovanni Mancini, presidente della Fondazione Andi, e la dottoressa Giulia Borromeo, esperta in dolore facciale e disfunzioni temporomandibolari, nonché rappresenta la fondazione dell'Istituto Stomatologico Italiano. Comincio la prima domanda, non me ne voglia la dottoressa collega, con l'amico e collega evangelista Giovanni Mancini, dicendo questa iniziativa è sicuramente un'iniziativa che va a favore degli utenti. È importante perché da noi dentisti viene crisi a parte, come dicevamo prima, la stragrande maggioranza della popolazione, quasi il 90% delle persone hanno bisogno di dire che una volta all'anno noi li vediamo. Ecco, ci vuoi focalizzare un po' questa importanza e spiegarci perché c'è una grande sinergia, ci può essere una grande sinergia positiva, ritornando al tema del teogramma, nei confronti della pazientela, degli utenti, della popolazione in generale. Grazie innanzitutto per l'invito e per questo spazio che è importante dal punto di vista divulgativo e poter esprimere tutta una serie di problematiche. In merito alla tua domanda, diciamo che i dentisti sono la prima frontiera, sono la prima frontiera perché molta della popolazione, quindi parliamo dal bambino fino all'anziano, ha una consuetudine anche in questo momento di grave crisi di recarsi dal dentista. E il dentista diventa colui che riesce a intravedere per primo alcuni aspetti che sono legati appunto a delle problematiche cosiddette tabacco correlate, fumo correlate. E questo ruolo non solo in Italia ma in campo internazionale sta diventando via più importante. Per quanto riguarda la nostra esperienza in Italia, il tutto è iniziato perché la Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze dal 2008. La sinergia è proprio questa. Assolutamente. Non è che siete andati proprio a misurarvi con quelli che hanno fatto della lotta ai tumori, la loro bandiera. Esatto, un impegno continuo attivo, ultradecennale. Sono ultradecennale, sono i più grandi. Mi interrompo un attimo e ricordo ai telespettatori che per chi volesse appunto chiamarci il numero da contattare è 0239352214. Eravamo rimasti alla Fondazione Umberto Veronesi. Quindi la Fondazione Umberto Veronesi nel 2008 ha in atto questa importante campagna che ha come titolo uno smoking biepi e per sinergie comuni che sono partite da contatti con la Fondazione dell'Istituto Stomatologico Italiano che appunto dopo sarà descritta e con quello che sono i contatti con noi che è la Fondazione invece Andi che è la Fondazione dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani si è deciso di coniugare e di profilare il progetto che per quanto riguarda il progetto iniziale non smoking biepi e su quello che sono le problematiche generali in campo tumorale legati al fumo. E che parla proprio della nobiltà di questa iniziativa perché spesso noi siamo legati purtroppo nell'immaginario collettivo, questo lo dico ai telespettatori, siamo la figura di coloro solo che fanno della professione lo strumento di guadagno. Non è affatto vero, ci impegniamo anche spesso nel sociale e molti di noi lavorano anche nelle strutture pubbliche che non dico sottopagate ma potete immaginare quali sono le retribuzioni oggi del pubblico, quindi questo è un altro aspetto di una nuova figura dell'odontoiatra. Certo, di un odontoiatra che è molto impegnato anche sulla popolazione e non solo per tematiche strettamente dipendenti ai denti ma per tematiche più generali di salute. Proprio questa sinergia con Fondazione Veronesi e con Fondazione Isi è profilata su quello che è da un lato il ruolo del dentista per la salute orale e generale e la sensibilizzazione della popolazione, soprattutto giovanile. E infatti adesso il progetto... Il progetto di giovanile facciamo spiegare alla nostra dottoressa, giustamente. E come è nata appunto questa iniziativa? Come tutti i grandi, le grandi iniziative è nata per caso assolutamente, io avevo un'amicizia in Fondazione Veronesi che da qualche tempo mi diceva ma perché non organizziamo una mostra fotografica e devolviamo insomma il ricavato in beneficenza finalizzando uno dei progetti di Fondazione Veronesi perché io oltre a farla dentista mi diletto un po' con qualche orgoglio anche con qualche soddisfazione. Quindi non sono l'unico che fa un paio di mestieri insieme. No assolutamente, sì sì sì, uno solo troppa noia. E allora mi sono detta ma perché no, ero arrivata ad avere un buon corpo fotografico e mi sono chiaramente interfacciata all'interno della Fondazione dello stomatologico che rappresento e abbiamo un pochettino concordato il tema da sostenere. E l'obiettivo di questo progetto infatti è stato a dire? Sì, tra le tante nobilissime iniziative di Fondazione Veronesi, quella sul fumo mi sono sentita essere quella che meglio sposa la nostra professione, proprio perché il fumo come poi approfondiremo a moltissime ripercussioni estremamente negative su quello che è il cavo orale e comunque tutti i tessuti del viso. E allora ovviamente ho pensato se dobbiamo lavorare con gli odontoiatri sul fumo non possiamo non coinvolgere Fondazione Andi. Abbiamo una telefonata? Abbiamo una telefonata? Un attimo interrompiamo. Pronto? Pronto? Ci dica signora, buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Intanto volevo dire alla signorina bionda, sento feda, lei è bergamasca, vero? Sì. Esatto, sì. Perché io sono bergamasca, l'ho capita subito dall'accento, non ti offenda ma l'accento bergamasco è proprio diciamo una cosa più, io sono bergamasca perlomeno. Ma si capisce signora, io sono calabrese, si sente anche siciliano, toscano, quindi si sentono tutte quelle, lei l'ha capito. No, bergamasco secondo me è speciale, particolare. Bene, bene, in senso positivo lo diceva signora, spero, giusto? Ma non si capisce anche se sono positivi. Lo sento. Va bene, ci dica, ci dica la domanda, a qualche domanda. Ci dica, oltre al mio accento che fa nulla, dica. Certo, non ci vado per quello. Senta, volevo dire, io sono ancora veronesi per una patologia comorale, però posso garantire che con il chemio mi si è devastata la bocca, io personalmente mi sono molto stata a fare per avere un aiuto in qualche maniera che tuttora sto ancora lottando con queste diciamo cose diciamo abbastanza serie che mi sono rimaste in bocca. Dove signora, presso quale struttura? Veronesi. Veronesi. Veronesi, però è stato nessuno, questa bocca deve essere stato il chemio. Ma la neoplasia, il tumore dove l'ha avuto? No, il tumore ha avuto il seno. Ecco, perché è importante far capire. Mi prendeva molto la bocca, mi prendeva molto con tutte le terapie che facevo. Con la chemioterapia. Di qui mi è rimasta anche la piorrea, mi è rimasta, diciamo la verità insomma. E la sua domanda qual è? Ecco, vedi, come va in questi ospedali, questi grandissimi ospedali che ho ricevuto, che si fa trovare bene, come ho detto, ma non c'è però una cura su quale ci sono poi gli effetti collaterali della chemio. Ho capito, ho capito, quindi adesso chiediamo all'esperto. Allora, Giovanni, la signora dice, ok, sto curando. Grazie signora, buonasera. Saluti Bergamo. Buonasera. Allora, la signora ti chiedeva, ok, la cura lo sto facendo, lo centro Veronesi, e ha portato anche buoni risultati, però per quello che riguarda gli effetti collaterali indesiderati e sgradevoli, spesso sgraditi, che sono delle radiazioni o della chemioterapia. C'è qualche cura inerente a questo, soprattutto a livello del cavorale? Questa domanda è una domanda, diciamo, molto utile in questo contesto, perché ci porta su un argomento che è anche al centro delle attività della Fondazione Andi, e che è quello del loro Cancer Day, cioè il scendere in campo dei dentisti per fare prevenzione e sensibilizzare la popolazione su tutte le tematiche che riguardano il tumore orale e in generale i tumori. Su questa problematica a cui accennava la signora che ci ha chiamato prima, è importante dire due cose. Quali sono le due cose? E che in Italia, purtroppo, non c'è ancora una adeguata cultura, non solo da parte dei pazienti, ma oserei dire anche dei colleghi medici, su quello che è il ruolo del dentista per l'assistenza odontodatica al paziente che è in trattamento oncologico, dove per trattamento oncologico ovviamente intendiamo proprio la chemioterapia. Perché tutti i farmaci chemioterapici hanno delle ricadute, delle conseguenze, effetti collaterali, su quello che è la capacità replicativa delle cellule in generale dell'organismo, quindi anche quelle sane e soprattutto anche quelle della bocca. Quindi noi abbiamo delle conseguenze estremamente negative su quelle che sono le condizioni dei tessuti moli del cavorale ed è importante, ci sono infatti delle direttive, delle linee guida, dei cosiddetti consigli clinici per come assistere questi pazienti che stanno facendo non solo la chemio ma anche la radioterapia. Quindi queste assistenze sono delle norme che servono a prevenire sia gli effetti diretti di queste chemioterapie sulla replicazione cellulare ma anche gli effetti legati all'insorgenza di infezioni che possono essere da batteri, da funghi. In concreto però Giovanni possiamo dire che ricarsi più spesso dal dentista, visite periodiche non può che migliorare la situazione. Quest'anno l'Ora Cancer Day sarà centrato anche sul ruolo del dentista per assistenza a questo tipo di paziente. E si riesce anche prima dell'inizio delle terapie di modo che il dentista metta la bocca in ordine. Prima ancora, anche prima dell'intervento se si potesse spesso per il chirurgico. Andrebbero fatte delle cosiddette bonifiche del cavalletto. Tornando ai tumori, fino a 30 anni fa molti dei tumori della bocca o erano misconosciuti o addirittura sicuramente c'erano molti di meno. Negli ultimi anni c'è stato un'escalation e un aumento in percentuale molto alto di questi tumori. Io personalmente negli ultimi 4-5 anni ne ho visti con una frequenza quasi raddoppiata rispetto alla mia esperienza degli anni precedenti. Quindi non sottovalutare mai, lo dico spesso anche ai miei colleghi e lo diciamo spesso anche agli studenti, tutti noi che si occupano o nei corsi o alle università, di guardare bene e di non limitarsi mai a fare... anche il paziente deve un'ispezione superficiale sui denti e basta, ma che le mucose vanno sempre osservate con attenzione perché mai, come nel caso della visita orale, la prevenzione può essere veramente una via di scampo e difficilmente se un tumore della bocca, che di solito è l'adenocarcinoma spinocellulare, quello più frequente, quindi il tumore proprio detto della bocca, se è preso in tempo, quasi tutti i pazienti si salvano, non hanno problemi e anche gli interventi sono meno invasivi. Ecco, cosa puoi dire a tutti coloro, ecco, una piccola al di là, vengono due volte all'anno da noi, una ispezione proprio loro, controllarsi la lingua, la mucosa e soprattutto se sono fumatori, vogliamo dare qualche indicazione? Ci sono delle linee comportamentali che sono legate al fatto di auto-ispezionarsi, esiste anche per i tumori del cavo orale, quello che è un approccio di autodiagnosi molto limitato... Io devo interrompere perché dobbiamo dare un attimo... Sì, però abbiamo obbligato, cioè riprendiamo tra due minuti... Allora, arriviamo subito... Vi ricordo che il numero da chiamare, quel che volesse mettersi in contatto con noi è 02-39-35-22-14. E lo vedete anche in sovrappressione. E lo vedete in sovrappressione. Riprendiamo col dottore. Sì, stavamo parlando di quello che sono, diciamo, le conseguenze del tumore orale e soprattutto la diagnosi precoce. Allora, la diagnosi precoce vuol dire, innanzitutto il paziente che è un fumatore, perché le cause favorenti i tumori quali sono? Sono, ahimè, ancora il fumo e l'alcol principalmente e oggi l'emergenza... E parlavamo prima dietro le quinte con la... Esatto, e poi adesso daremo un'ampia disamina di questo e poi il papillomavirus che è un altro argomento, un'altra problematica importante. Però, per quanto riguarda i fumatori, già un fumatore dovrebbe dedicarsi di più a quello che è la visita di controllo del dentista. L'autoispezione, laddove ci sono situazioni di ingombri o comunque di strane alterazioni di forma, per esempio della lingua, esatto, la lingua che non è più o delle macchie bianche, delle macchie rosse persistenti, ovviamente è importante recarsi da un primo livello a un dentista che possa fare già un primo esame, un primo screening. Poi ovviamente ci sono livelli successivi di diagnosi più complesse, però il primo livello è sicuramente al dentista, anche perché alle volte possono essere delle banali otturazioni che hanno avuto un degrado nel tempo, per cui ci sono delle micro fratture e degli elementi dentali possono dare un'irritazione a livello delle mucose e quindi crea un traumatismo cronico persistente che può dare una lesione, che però nel tempo può generare anche una forma di lesione necolastica. Prima si pensava a un tempo che difficilmente dalla displasia alla metaplasia si passasse alla neoplasia, invece adesso si è visto che... nei casi dove ci sono fattori di rischio... Abbiamo una telefonata, io arrivo sempre a interrompere. Va bene. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io sono un po' curiosa, volevo sapere un attimino, buonasera prima di tutto a tutti e grazie per l'informazione che date, veramente. Grazie perché questa è una trasmissione proprio che vuole dare delle informazioni non soltanto negative, per carità, senza sottovalutare signora la situazione di crisi istituzionale, speriamo che migliori con il nuovo governo e economica in cui ci troviamo, però vogliamo far vedere che in questo paese bisogna riprenderci, qualcosa di buono c'è, in questo momento ho portato nella fattispecie due miei colleghi che fanno veramente una cosa che dà loro lustro e onore. Mi dica signora. Davvero, grazie, grazie di cuore. Allora, e speriamo, tanti auguri all'ipotetico governo, al futuro governo. Tanti auguri. Speriamo. Niente, volevo sapere che differenza passa tra l'ematologia, gruppo sanguigno, RHD, quello positivo e quello negativo. Che differenza... Cioè, volevo... Ve lo dico subito signora, il fattore RH è presente e quindi è positivo. Laddove il fattore RH non è presente, da Macacus Rerus, allora si parla di RH negativo. È la presenza di un fattore tipico genetico. Qual è l'unica importanza? Che tutti i positivi possono prendere nelle trasfusioni del sangue negativo, per quello che riguarda il fattore RH. Mentre se lei è RH negativo, non può prendere un fattore dove c'è il fattore RH positivo. Ah, ho capito, ho capito. Invece i gruppi sanguigni, lo dico velocemente, i gruppi sanguigni si dividono in A, B e 0. Quindi se lo 0 è il donatore universale, l'AB è il recettore universale, quindi può prendere tutti i gruppi sanguigni che vuole. L'A e il B invece devono prendere o lo 0 che è il donatore universale, oppure l'A oppure il B, cioè i loro fattori. L'importante è che l'RH soprattutto nelle donne primipare non venga somministrato, perché poi potrebbe creare una patologia a livello fetale. Va bene? Era solo questo signora. Arrivederci. Comunque la ringrazio molto e buon lavoro. Grazie a lei. Arrivederci. Salve. E qui perciò bisogna intendersi un po' di tutto, diciamo siamo medici, io e il collegato tu sei medico o don Togliato? No, io sono don Togliato. Ecco, noi siamo anche medici, quindi ci ricordiamo bene la biologia e sappiamo quello, perché dobbiamo fare questo servizio e laddove possiamo rispondiamo anche in ematologia, cardiologia, tutto quello che serve. Rispondo meglio sulla fisioterapia, la postura. Dottoressa ci dica quali sono i danni del fumo. Allora, diciamo che la bocca è proprio la porta di ingresso del fumo, sia inteso come molecole nocive, sia come proprio il calore stesso e l'aria secca del fumo e quindi incontra sui denti il primo scoglio da superare. Il fumo ha uno degli effetti più negativi, è quello che diminuisce la concentrazione di ossigeno nel sangue e questo sangue irrora anche le gengive, ovviamente. Il caldo e la nicotina è come se diminuissero la capacità dei capillari, quindi di portare l'ossigeno e il sangue all'estremità. Che cosa succede? Quindi la microcircolazione. Esattamente. La microcircolazione. Che cosa succede? Che i batteri che non trovano ossigeno possono svilupparsi più facilmente e notoriamente i batteri… Sotto anaerobiche. Esattamente, anaerobiche, quindi sopravvivono in condizioni di assenza di ossigeno, sono molto più aggressivi rispetto agli altri. Quindi i danni a livello gengivale che possono svilupparsi e quindi provocare quella che una volta veniva chiamata piorrea, oggi viene chiamata parodontosi o parodontopatia, possono essere in delle forme molto più aggressive. Tanto per citare appunto una cosa abbastanza semplice, per non addentrarci nuovamente nel capitolo estremamente importante invece della patologia proprio prettamente tumorale. Certo. Possiamo aggiungere una cosa. Visto che mi occupo probabilmente di estetica, i grandissimi danni all'estetica sia per quello che riguarda l'estetica anatomica, quindi la recessione gengivale che provoca un allungamento della corona clinica e quindi un dente meno bello. Ma anche proprio dal punto di vista localistico, le macchine. Le famose macchie tra il giallo e il marrone. Ma è vero che diminuisce anche la fertilità fumando. Sì, chi fuma, le coppie fumatrici hanno più probabilità di avere difficoltà nel concepimento sia per quanto riguarda la capacità sessuale maschile che quella di fecondazione femminile. Non soltanto, ma una madre che fuma, proprio perché abbiamo detto che c'è questa diminuzione dell'ossigeno, assolutamente le molecole arrivano al feto e comunque il feto riceve meno ossigeno proprio perché la circolazione viene inficiata. Allora, io ricordo da il mio tempo era proprio che se c'erano anche 30-40 anni fa si sconsigliava il fumo alle donne in gravidanza. Ma anche per l'uomo quindi è la stessa cosa, sia per l'uomo la fertilità sia femminile che maschile. Diciamo che l'uomo è un pochino meno colpito ma... Certo, adesso io vorrei parlare invece con Giovanni, con il mio collega. Salva il tuo sorriso. Possiamo mettere a favore di telecamera per far vedere i telespettatori. Abbiamo dimenticato un sacco di altri aspetti sugli impianti. Ecco. Abbiamo detto soltanto delle gengive. No, dopo ne parliamo ancora perché è una trasmissione molto discorsiva e ne parleremo dopo. Io farò la domanda proprio a te sull'implantologia e la controindicazione relativa, non più assoluta che è il fumo per l'implantologia. Parliamo, divariamo un po'. Salva il tuo sorriso. Prima si pensava soltanto a salvarlo per quello che riguarda la prevenzione della carie. Oggi sappiamo che un bambino su due ha una carie, quindi 0,50, mentre solo dieci anni fa ogni bambino avrà in media sette carie. Quindi possiamo dire che attraverso l'informazione, attraverso l'educazione, attraverso la campagna di prevenzione abbiamo risultato. Prima di dare la domanda, rispondiamo perché hanno la preferenza dei nostri telespettatori. La precedenza. Assolutamente. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Sì, volevo chiedere una cortesia, ma di che livello di fumatore voi intendete? Non so, ad esempio io non fumerò, so, 3-4 sigarette al giorno. Volevo sapere se c'è anche un'incidenza diversa tra considerare queste cose di cui parlate rispetto al... Bene. Oddio, la dose è importante in tutte le regioni. Quasi. Se io ripeto lo stesso movimento tante volte, chiaramente la pelle in quella zona... Si crea il codice a Barbie, così antipatico soprattutto nelle donne. Quindi la invitiamo a fumare di meno, a smettere del tutto, se riesce a smettere del tutto. È un limite accettabile. Partito da 2-3 sigarette. Io dico di non fumare. Questo sicuramente è il messaggio migliore, che è quello di non fumare. E adesso ritorniamo al nostro Salva il tuo sorriso. Grazie per aver chiamato. Buonasera. Salva il tuo sorriso. Salva il tuo sorriso è un decalogo, un decalogo che è stato redatto con un lavoro congiunto dove la dottoressa Borromeo ha ovviamente fatto un coordinamento importante perché abbiamo cercato di rendere semplicemente e in modo leggibile ovviamente dai nostri pazienti, dai cittadini, quello che sono degli elementi importanti, alle volte poco conosciuti, in tema di danni derivanti dal fumo. Perché noi anche oggi abbiamo parlato dei danni derivanti dal fumo e soprattutto in campo tumorale. Però ci sono tutta una serie di danni che riguardano il viso e la bocca e che non sono di tipo tumorale, per fortuna aggiungo io, che però meritano grande attenzione. E per esempio un aspetto è quello dell'alito, che però l'alito dà delle ricadute anche sulla salute dei denti. Nel senso che spesso l'alitosi che è presente indubbiamente nel fumatore lo induce a fare un largo consumo di chewing a mentine, tutto ciò che sono caramelle che danno un'attenuazione di questo alito tipico del fumatore. Per cui aumentiamo un carico di zuccheri a livello del caurale che non va bene, aumentiamo spesso delle abitudini tipo il bruxismo o il serramento diurno legato al consumo di queste mentine e aumentiamo l'abrasione dei denti. Quindi da un lato con gli zuccheri, dall'altro con una continua... E' quello che volevo chiedere, perché io ne uso... Per cui si instaura un circolo estremamente vizioso e dannoso che peggiora ulteriormente. Quindi il fumatore si, come dire, si avvia verso una strada che è sempre più a distruzione della propria bocca. Ovviamente sono processi lenti, non vogliamo fare del terrorismo, però... E questo è un fatto poco conosciuto, cioè il fatto di fare un consumo eccessivo di cosiddette mentine... Anche se ci sono senza zucchero. Ci sono anche quelle zone, ma il fatto di consumarle... Perché il fumatore spesso cosa fa? Il fumatore da 20 sigarette al giorno, quindi 20 o 40... Cosa fa? Accende una sigaretta, la consuma, poi la spegne e nell'intermezzo tra una sigaretta e l'altra prende una mentina e la mentina comincia a digregnare i denti e quindi comincia un processo che coinvolge non solo i tessuti duri dentari, ma anche i tessuti molli, perché come Giovanni tu sei meglio di me, ovviamente il dente e tutta la struttura che sostiene l'elemento dentario, se continuiamo a caricarla in modo non funzionalmente corretto, indiciamo dei danni da buso di una funzione. Per non parlare anche di un altro svantaggio che ci può essere nei fumatori, che si nota soprattutto nei fumatori di sigaro, è che la saliva impregnata di nicotina e di dieta di tabacco poi va a livello gastrico e sicuramente aumenta. Esatto, questo qui è un altro effetto che si somma il fumo e il consumo fuori dei pasti di queste mentine dà spesso un aumento in realtà, chi ha problemi di ereniacidale, acidiose, rigurgito eccetera, ovviamente accentua tutte queste sintomatologie. Che deve correggere poi con gli antiacidi che non sempre sono farmaci. Anche perché tutti questi aspetti facilmente sono correlati ad una personalità magari di tipo ansioso che quindi per abbassare il livello di ansia fanno uso appunto dalla mentina alla sigaretta come una sorta di scaccia pensieri e della stessa ansia poi va a peggiorare. E la sigaretta elettronica? Allora facciamo, siamo nell'attualità. La sigaretta elettronica a posto che la legislazione ancora insomma si sta... Ma al di là di quello ci sono degli studi sull'eventuale... Allora sembrerebbe perlomeno che sia meno dannosa della sigaretta, ecco, meno dannosa. Poi il quanto, il come è ancora abbastanza da approfondire. Ma la concentrazione di nicotina... Il problema è quello che tante volte puoi comprare, tra l'altro le puoi comprare su internet dove molto spesso le concentrazioni non sono ben segnate, dove comunque c'è tanto, tanto, tanto marketing. Non c'è ancora abbastanza letteratura scientifica internazionale sulle sigarette elettroniche. Diciamo che comunque laddove la nicotina viene progressivamente riduta... L'osso di carbonio non c'è più... C'è un effetto che probabilmente è legato alla temperatura perché le alte temperature a livello del cavorale danno comunque dei problemi. Vi devo interrompere per dare la pubblicità. Giustamente. Arriviamo subito. Di nuovo con voi Rh positivo. Ecco, eravamo rimasti a parlare, abbiamo interrotto prima la gentile collega perché tra tutti gli argomenti abbiamo tralasciato uno importantissimo e di grandissima attualità perché oggi più che mai l'implantologia è di uso comune, non c'è odontoiatra che non la pratichi, non c'è paziente che non la richieda e questo è molto importante perché adesso arriva il paziente e dice io vorrei fare un impianto, arriva già e mi dico ma è stato da un altro collega? No, no, lo so, ho letto i giornali e sono istruiti, quindi io vorrei togliere questo dente perché ormai ritengo che non sia più valido dal punto di vista, non sia più curabile, vorrei un impianto, quindi l'implantologia è importante. Fino a qualche tempo fa però c'era una contrincazione assoluta, quindi se il paziente era un grande fumatore si teneva a dire no, non possiamo fare l'impianto, era quasi dal punto di vista medico legale quasi vietato. Adesso questo non è più per fortuna perché le nuove superfici implantarie hanno fatto dei progressi talmente grandi che si può avere successo anche nei pazienti fumatori, però la nostra dottoressa ci spiegherà quali sono i limiti e perché sarebbe importante, soprattutto qualora vengono richiesti più impianti, non fumare. Farei innanzitutto un passo indietro, cioè il paziente che richiede una terapia implantare fumatore, la prima domanda da porsi è perché ha perso quel dente, allora se è un problema di tipo carioso è un discorso, Se incominciamo con un problema di tipo parodontale noi andiamo a cercare di mettere un sostituto di un dente che è stato perso per cause legate al fumo, quindi il primissimo passo da fare con il paziente fumatore che ti chiede l'impianto e che comunque ha il diritto di chiederlo, perché è una cosa che appunto si può fare, è lavorare tantissimo di educazione, cioè insegnare al paziente tutti questi aspetti legati ai danni dal fumo. Ad oggi si considera il cut off, quindi un po' il limite entro il quale si può fare implantologia, come diceva prima il dottor Mancini, le 10 sigarette, per cui il paziente che riesce a stare in maniera stabile entro le 10 sigarette può essere riabilitato da un punto di vista implantare. Senza grandi problemi, con una proniosi positiva. Per i fumo proprio intraoperatori, nel senso subito prima dell'intervento e subito dopo l'intervento, bisognerebbe chiaramente cercare di azzerare il fumo, perché il fumo tra tutti i vari danni che provoca ha anche proprio il rallentamento della guarigione delle ferite orale. E quindi anche dell'osso integrazione. Esattamente, quindi dell'osso che va a inglobare praticamente l'impianto, sia come la capacità delle mucose di andare a guarire. Quindi c'è anche proprio un dolore posto per la tortua. Non esiste il rigetto, perché quello rigetto è sempre dovuto a una reazione immunitaria. Non esiste. Esiste la mancata osteointegrazione. Questo è importante. Quindi non è come diciamo, io non sono allergico a questo, problemi di... No, assolutamente. Non esiste il rigetto in implantologia. Esiste un impianto che funziona, che attecchisce e un appuntamento che non attecchisce. Quindi il rigetto non esiste. Dottore, a livello numerico, di dato numerico, quanti sono i fumatori in Italia? Ecco, io infatti ho portato qui con me oggi dei dati perché credo sia importante, perché ci ascolta divulgare questi che sono dati, la fonte dell'Istituto Superiore di Sanità, sono dati del 2013. E allora, la notizia buona è che nel corso degli anni, quindi ci riferiamo dal 2003 ad oggi, il numero dei fumatori e sicuramente delle sigarette consumate si è ridotto. si è passati da circa 16 milioni di sigarette nel 2003 a circa 13 milioni nel 2013. Quindi già questo è un dato rilevante perché con l'introduzione delle leggi antifumo nei locali pubblici... Quindi anche le entrate fiscali sono diminuite per lo Stato. Ben venga, ma io aggiungo che sono anche, si saranno sicuramente ridotte tutte le spese sanitarie perché... Esatto, quindi c'è il recupero dall'altra parte. Poi dopo ecco, faremo un apparente sui posti sanitari di questa cosa. Poi esiste ovviamente sempre una prevalenza decisa dei maschi rispetto ai soggetti di sesso femminile e abbiamo quindi un ammontare di circa il 13, un'incidenza del 13% della popolazione fumatrice. Ma il dato invece più preoccupante qual è? E' quello legato alla prima sigaretta fumata. Cioè, e questo è un fenomeno che riguarda tutti i paesi occidentali. Quindi prima. No, dice, quando si è abbassato... Si è abbassato molto l'età. Addirittura negli Stati Uniti parlano dei 12 anni, 12-14 anni. Quindi questo diventa un'emergenza sanitaria. Quindi abbiamo un dato globale positivo in termini di riduzione quantitativa assoluta. Però è il livello minimo. Ma abbiamo un dato preoccupante riguardo all'età. E infatti, e nostra esperienza come dentisti, vedere nei nostri giovani pazienti una recrudescenza del fumo. Abbiamo avuto una fase in cui la mia generazione, ma credo anche la generazione molto più giovane della dottoressa Borromeo, ha smesso totalmente di fumare. Ma i giovani adolescenti di oggi, io vedo che tra loro, possiamo identificare, su un calcolo molto approssimativo, che un buon 30% siano dei fumatori. Forse anche con un punto del 40%. Assolutamente. Vabbè, va a comprare l'amico di 18enne. Ma certo, perché il dato è che fumano perché tutti gli altri fumano. Quindi dipende anche dal contesto in cui uno è inserito. E questo direi che è molto importante. Poi, un altro dato che a me sembra di rilievo è quello che in Italia solo il 15% dei fumatori è stato consigliato al proprio medico per interrompere il tabagismo. Quindi abitudine al fumo. Quindi bisogna tirare le orecchie ai medici di famiglia. No, no, ma questo progetto, lo Smoking Bepi, per il tuo sorriso, vuole proprio fare questo. Vuole aumentare quello che è l'impegno del dentista in sinergia con gli altri, ovviamente, soggetti sanitari, che sono quindi i nostri medici di famiglia, gli ospedalieri e quant'altro, per sensibilizzare la popolazione su questo argomento. Perché se solo il 15% dei fumatori è stato consigliato in merito, non ci siamo. Quindi dobbiamo aumentare quello che la comprai. Naturalmente approfitto per dirlo anche ai telespettatori. Io personalmente, occupandomi soprattutto di estetica, dico subito i pazienti che hanno denti in resina, che il fumo è dannosissimo. Gli sbiancamenti, che uno dei primi in Italia a cominciare a fare già negli anni 90, ho detto che è assurdo fare uno sbiancamento. Spesso dico che ti faccio uno sbiancamento se riduci il tuo fumo. E spesso con tanti pazienti che tengono l'estetica ci sono riusciti. Ci sono, e lei. Siamo riusciti noi dentisti a far smettere i pazienti dopo uno sbiancamento. Infatti bisogna sia arrivare al paziente, ma il veicolo necessariamente è quello del professionista sanitario. Che sia il dentista o che sia il medico di famiglia, sul quale peraltro proprio come istituto stomatologico abbiamo un progetto di educazione che è insieme odontoiatri e medici di famiglia, proprio perché siamo coloro che vedono più facilmente i pazienti. Tra tutte le cose negative che sono fatte in questo paese negli ultimi anni, dobbiamo dire che però la legge sul fumo nei locali è stata una cosa veramente grande, che ancora in tanti paesi, tipo la Spagna ce l'hanno solo da un anno, perché non ce l'avevano, e altri paesi europei non è così. Gli stessi fumatori riconoscono l'importanza di questa legge, perché sono riusciti, grazie ad una sorta di divieto, a ridurre... Le sigarette elettroniche, quelle mi sembrano che... Allora, e anche lì potrebbero essere similate le sigarette... In alcuni locali sono vietati. Anche in alcuni locali sono vietati. Però sono bravi anche gli italiani, Giovanni, perché gli italiani, anche i fumatori, hanno subito aderito in modo assolutamente rigoroso. Sì, sono state pochissime... Io non vedo mai i soggetti che fumano nei locali Pucci, anche il più incalito fumatore... Lei non è d'accordo. Diciamo che nei locali frequentati dai giovani, come possono essere le discoteche verso la fine della serata? Abbiamo parlato dei giovani, e allora a questo punto è anche doveroso dire quelli che sono un altro grande problema che attanaglia i giovani di adesso, che è quello delle droghe, anche le droghe leggere. Gli stessi effetti negativi, forse peggiori ancora, sicuramente peggiori, sono dati anche dalla marijuana e dalla cannabis. Quindi possiamo dire che effettivamente, anche a livello di tumore... Secondo me il problema è nella leggerezza con cui le nostre generazioni, perché il consumo di droga negli anni magari 60-70 era un fenomeno sociale molto ristretto. Cioè era un gruppo di persone che viveva in quel modo. Oggi invece purtroppo la cosiddetta canna la fumano tutti. Cioè trasversalmente viene... Anche perché qualcuno magari non riesce a dire di no. Sì perché fa la fine fumano tutti, però c'è questa voglia di emulare i compagni e logarsi... Domani immagina quanto è stato negativo, io dico certe volte anche questa campagna giornalistica che si vede anche sui telegiornali dove si esaltano le doti terapeutiche, cioè anche laddove possa essere utile nella sclerosi multipla o in alcune cose. Cioè si impostano dei servizi in televisione, sui giornali, dove si fa vedere che se... Cioè il messaggio che si manda è quello. Se il cannabis fa bene alla sclerosi multipla, fa bene anche alla persona normale. Non è vero. Lì si tratta di pazienti che hanno grandissimi problemi neurologici ed è come se facessero o un'anestesia, possono venire dolore, o quindi è come se... È un vero e proprio farmaco. È un farmaco che si usa per curare delle patologie. Come si usa la digitale, come si usano i barbiturici, come si usano tantissimi altri farmaci. Questo non vuol dire, e lo dico a tutti i giovani che ci stanno guardando adesso e vedendo in televisione, che assolutamente non pensate che le droghe leggere facciano bene o aiutano o fanno rilassare. Queste sono varie. Le droghe leggere possono solo far male e possono essere l'anticamera, il pelludio, poi altri tipi di droghe. Il problema è che, dottore, cosa stavi dicendo? No, dicevo che, appunto, un po' la leggerezza, un po' che purtroppo non fosse soltanto l'uso della cannabis che, se anche lì fosse naturale, il problema è che quello che viene fumato dai giovani è estremamente chimico, quindi non c'è più niente di quello che era il principio attivo base. Abbiamo la testa. Forcatissima. Pronto? 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 Sì, ci dica. Dunque, io occasionalmente a volte fumo in compagnia una sigaretta, magari ogni 15 giorni. Non sono mai riuscito, per fortuna, a imparare, perché ho dei bronchi molto sensibili. Allora mi bastano sigarette, il giorno dopo ho già accattato, quindi sicuramente sono stato baciato dalla fortuna. Può alzare un po' la voce? Pronto? Ecco, bravo, alzi la voce. Sì, ci dica. Perché avevano i bronchi molto sensibili e se fumo una sigaretta il giorno dopo ho già rispetto. Sta male. Allora a volte da ragazzo andavo in sala da ballo per darmi un contegno davanti a tutti gli altri. E fumavo? Un sigaretta dura un po', io ero coccato da buttare via il giorno dopo, no? Non è uno status symbol fumare, ormai bisogna dirlo e dirlo, anzi chi non fuma è... È cool. È cool. È cool. Io non ho mai imparato, per fortuna, perché sono... Ha dei figli lei, ha dei figli? Sì, sì. Ecco, i suoi figli fumano? No. Ecco, bravo. Quindi ha... Non è renditato quella negatività. Ha fatto benissimo. Positiva. È stato un ottimo esempio per i suoi figli e un ottimo padre nel riuscire a non far fumare i figli, perché anch'io ho demonizzato il fumo e ho tre figli maschi e nessuno dei tre fuma. Quindi sono riuscito in questo obiettivo. La domanda... Voleva fare una domanda anche? No, se uno... Per esempio io a volte per guida avevo delle macchine aziendali che non hanno l'aria condizionata. Se ti fermavi lungo l'autostrada sotto il soleone e trovavi una macchina che era, diciamo, una fornace, allora la metteva in bocca un toscano e quello senza accenderlo, no? E quello lì si sollieva e praticamente la nicotina entrava in circolo e il mio sveglio per centinaia di chilometri praticamente era come un eccitante, no? Eh sì. Però quello che fa male, io penso, sia il catrame, no? Cioè... Soprattutto l'osso di carbonio è il catrame che si sviluppa dalla carta, le sigarette. Il sigaro, possiamo dirlo, il sigaro è sicuramente meno dannoso, il toscano è meno dannoso della sigaretta. Su questo mi sembrano ceduti. Rimaneva solamente, diciamo, si scioglieva in bocca piano piano e... Va bene, la ringraziamo. Prego, calda. Va bene, di te la telefonata, grazie. Grazie. No, giustamente dice, faceva talmente caldo che bastava stare nella macchina. Dottore, dobbiamo interromperla perché dobbiamo dare la pubblicità, arriviamo subito. RH positivo, ancora con voi, Milan Now. Giovanni, si chiami come me, quindi evangelista, io sono battista, specifichiamo sempre, abbiamo due santi diversi, ma abbiamo lo stesso nome, ma due santi diversi. Tu parlavi di dipendenza prima, è importantissimo, prima una domanda sulla dipendenza e poi subito dopo, un aspetto che sono molto sensibili le donne in generale, il gentil sesso, è le sigarette e l'invecchiamento, per due ordini di motivi che poi ci spiegherà il dottore, uno per proprio la mimica facciale, perché uno sempre succhiata la sigaretta, vengono nel codice Abarth, e l'altra per un discorso di microcircolazione, adesso ci spiegherà come, cominciamo però dalle dipendenze. Sì, visto che prima facevi riferimento all'uso delle droghe leggere, e comunque delle droghe in generale nei giovani, forse non abbiamo abbastanza sottolineato quello che è l'aspetto legato, importante del tabagismo, cioè la dipendenza della nicotina. La nicotina è una sostanza che induce dipendenza, cioè è un fenomeno neurologico molto preciso e ben documentato e identificato, quindi il soggetto fumatore in realtà ha una dipendenza rispetto alla nicotina. È come una droga, diciamo. Quindi è una droga, assolutamente, quindi questo è il motivo per cui c'è un altissimo insuccesso dal punto di vista dei tentativi di smettere di fumare, nel senso che ci vuole la volontà del fumatore per poter capire le problematiche. Il ruolo di un altro nostro collega che è lo psicologo, lo psichiatra? Certo, però io credo che non il terrorismo, ma la cosiddetta moral suasion sia quella che convince di più le persone, cioè quindi i divieti sono importanti, perché ovviamente creiamo degli spazi. Io trovo che siano, ecco, stiamo parlando di gestione delle politiche antifumo. Adesso negli aeroporti internazionali sono comparse queste cabine, qui le chiamo le camere a gas, dove si chiudono dentro e fumano in un modo folle. E addirittura non si riescono neanche a identificare i soggetti presenti all'interno, perché è talmente alta la concentrazione di fumo che è pazzesco. E questo qui devo dire che non è molto educativo, perché comunque dà la possibilità ovunque e comunque di fumare. Tiene conto della dipendenza. Quindi la dipendenza alla nicotina. Poi sappiamo che ormai nel fumo di sigaretta ci sono più di 4.000 sostanze tossiche, tossiche a vari livelli dell'organismo. Quindi 4.000 direi che sono già una ragione sufficiente per smettere di fumare. Poi ovviamente il fenomeno del fumo è un fenomeno molto complesso che, ripeto, secondo me deve coinvolgere in prima persona il fumatore, dandogli anche quello che sono i costi. E qui voglio farmi un riferimento questa campagna. Cioè per una volta noi con questa attività che è appena partita, che è lo Smoking B.I.P. per il tuo sorriso, abbiamo anticipato per una volta gli americani, perché la Food and Drug Administration americana ha lanciato una campagna il 4 febbraio scorso, il nome è Real Cost, cioè vuole sensibilizzare la popolazione sui costi sanitari del fumo. Anche ci sono le lobby, le più grandi aziende del produttore di garezza americana. Esatto, però pur avendo questo, si stanno impegnando tantissimo in una campagna, devo dire, assolutamente molto interessante sul piano della comunicazione, perché è molto convincente e mette al centro della comunicazione i giovani. Il modo, devo dire, molto bello, non solo ponendo, come è stato fatto in Europa, sui pacchetti di sigarette, il polmone del soggetto fumatore, come adesso si vorrà fare, perché tu sai che adesso le campagne antifumo... Non ha avuto molto successo, il fumo ti uccide non ha avuto molto successo. Ecco, no, non ha avuto successo, perché secondo me bisogna fare delle campagne poi continuative e metterlo e spiegare sempre alle persone, perché il fumo ti uccide, detto così, probabilmente è un qualcosa che sicuramente aiuta, ma non è sufficiente per dissuadere il fumatore, perché stiamo parlando di soggetti che hanno una dipendenza a questa sostanza che è la nicotina. Quindi uno è consapevole che uccida, però finché uno sta bene, ahimè, continua a fumare in modo continuativo, aspetti negativi sulla bellezza e poi l'invecchiamento. Infatti volevo, giù, per arrivare all'invecchiamento, nel senso che purtroppo nel nostro immaginario la patologia tumorale è un qualche cosa di statistico, che succede agli altri, capita agli altri, mentre l'alito cattivo viene a me, i denti gialli si macchiano proprio a me, il viso con le rughe, esatto, è un qualche cosa con il quale io mi devo confrontare ed è per questo che potrebbe, cioè dovrebbe essere utilizzato di più questo aspetto sociale del fumo proprio per andare a lavorare sul paziente e sulla sua consapevolezza. Uno degli aspetti più importanti potrebbe essere proprio questo, soprattutto in queste nuove generazioni molto attenti all'estetica, il discorso delle rughe. Sì, tornando agli adolescenti e sui giovani, io porto sempre questo aneddoto, perché a un certo punto, qualche anno fa, i coetanei delle mie figlie, quindi parlavano di ragazzi tra i 14 e i 16 anni, insieme, sembravano che si fossero messi d'accordo, venivano e chiedevano di fare lo sbiancamento dei denti ed erano tutti ragazzi con i denti molto bianchi, no? E io dicevo, ma scusate, cosa vi è successo che mi state chiedendo di sbiancare i denti già bianchi? Poi le mie figlie mi hanno spiegato perché in discoteca, no, perché in discoteca le luci che usano dovevano essere sempre più bianchi perché c'è questo effetto di luce riflessa nel buio delle discoteche e a loro interessava avere questo effetto pazzesco perché non si vede il viso ma sono i denti. Questo solo per dire come alle volte, su delle banalità, si può indurre assolutamente dell'educazione della cultura sanitaria a difesa, a promozione della salute. No, per quanto riguarda l'invecchiamento, l'altro aspetto importante che al centro della nostra campagna non sbocchi in biepi per il tuo sorriso è quello dei fenomeni dell'invecchiamento legati al fungo, al tabagismo. Allora, sono stati fatti degli studi che ormai sono importanti con una rilevanza scientifica internazionale dove si parla di cosiddetta smoking face, cioè la faccia del fumatore, per cui i tessuti cutanei e facciali subiscono un invecchiamento precoce. A dimostrazione di questo, negli Stati Uniti, due anni fa, c'è stato un meeting dei gemelli residenti negli Stati Uniti di questa moltitudine pazzesca di questa convention di fratelli gemelli hanno preso un gruppo che superava i 100 soggetti, li hanno fotografati, perché erano soggetti dove... Uno era fumatore e uno no. Esatto, uno era fumatore e l'altro no, e li hanno comparati. È un lavoro che è stato pubblicato sulla rivista di chirurgia plastica internazionale ed è stato facile capire, anche per i non addetti ai lavori, come il gemello fumatore abbia assolutamente delle caratteristiche dei tessuti molli e dei tessuti cutanei che sono nettamente più vecchi e quindi è dimostrato facilmente come ci sia... Con due meccanismi di azione che possono... Esatto, con i meccanismi che sono legati ad alcuni, che aveva citato la dottoressa Borromeo prima, e proprio all'effetto di queste sostanze, all'effetto legato alle cosiddette rughe, alla mimica facciale durante il fumo, poi sono sicuramente il soggetto fumatore, spesso un soggetto anche molto stressato quindi che tende ovviamente ad avere tutta una serie di parafunzioni anche a livello di abitudini espressive e quindi questo fenomeno di invecchiamento, oggi che l'estetica dei tessuti è molto importante, l'estetica del viso, non solo per le donne come tu dicevi, ma io vedo che anche molti maschi sono molto attenti al loro aspetto, non ha senso fare procedure di ringiovanimento e di anti-aging quando se prima noi come operatori sanitari, come specialisti, non facciamo cultura Possiamo dire anche la sicurezza degli incidenti familiari, quante si addormentano con la sigaretta in bocca e poi brucio questo non è da scurare perché molti incidenti familiari... Bruciature anche, dottoressa, ci sono altri effetti negativi sul cavo radio? Sì, citiamone ancora un paio, è provato che i figli di genitori fumatori hanno una maggiore incidenza di carie Adesso andare a spiegare bene questo fenomeno è piuttosto complesso, tante volte i fumatori... Però statisticamente c'è questa correlazione Vuoi per l'aria più secca che viene respirata perché chiaramente il bambino di un genitore fumatore avrà facilmente problematiche nasali di respirazione perché respirerà il fumo in casa e quindi di notte dormirà a bocca aperta con l'alterazione di quella che è la microflora batterica della bocca e la salivazione Pensate quando negli anni 60-70 i genitori fumavano in macchina e i bambini erano dietro Pensate che ancora adesso credo, anche in aereo si fumava Mi capita di vedere il semaforo spesso Poi non capisco un'altra cosa, non si può prendere un telefonino in mano e ti tolgono 5 punti, giustamente però si può prendere le sigarette dalla tasca, accendela, metterla in bocca, accendela mentre si guida Questo credo che sia veramente assurdo Poi per non parlare dello stato di lucidità che può avere il paziente fortemente fumatore anche al volante, perché qualcosa di obniubrazione ci può essere Se sei d'accordo? Assolutamente, anche soltanto che in teoria si fumerebbe con la destra perché come fai a... Cioè, è molto scomodo Poi un altro dato importante da dire alle mamme è che le mamme, si è visto, c'è una patologia che sono le labiopalatoschisi cioè sono quelle patologie congenite dove si nasce con un difetto a livello del labbro, del palato cioè non c'è la corretta saldatura di queste bozze embrionari per cui questi bimbi hanno il palato Sono delle associazioni, vuoi citarle? Esatto, ci sono una serie di associazioni che si occupano di labiopalatoschisi A Milano c'è una, Smile Train, che è Smile Train per Italia e un'altra in Milano che segue Emergenza Sorrisi, credo che sia esatto che si occupa di labiopalatoschisi ma quello che mi preme dire è soprattutto il fatto che molte di queste mamme sono mamme fumatrici cioè le mamme di bambini con labiopalatoschisi sono spesso delle fumatrici quindi è vero che è una patologia congenita però interviene laddove esiste una mamma con un'abitudine al fumare Abbiamo pochi secondi ancora Dite ai nostri telespettatori quanto è importante almeno ridurre in sintesi il fumo velocemente tutto quello che abbiamo detto in un'ora lo dite in pochi secondi Io direi prima di tutto di cercare sui figli di fare grande educazione quindi cerchiamo di ridurre a zero i cosiddetti baby smoker che sono una cosa molto brutta oltre che costosa perché non dimentichiamoci che le sigarette hanno un costo cioè il pacchetto credo adesso costano 5 euro e mi dicono che per esempio in alcuni paesi in Australia pare che costino 12-15 euro quindi c'è proprio un costo di portafoglio importante ma il costo sulla salute individuale della collettività è altissimo perché tutte le patologie che derivano dal fumo sono sicuramente grazie Vi ringraziamo e ringraziamo di essere stati qui con noi Grazie A martedì prossimo Grazie Grazie Grazie